Il suo ingegno non basterà a salvarla dalle trappole che ho preparato più avanti. Ignoratelo, possiamo farcela. Ti ringrazio. Ti avviso, scrivo meglio di come disegno. Non sono un gran che... Tutto divertente! Prendo la vita! Il meccanismo è inutile senza chiave. Aspetta. Presto. Porto. Essere sono un miserabile, a cui ha dato di nuovo uno scopo. Come se questo potesse fermare. Prendi, prendete pure. Porta... Troppo facile da trovare. In preparazione alle prove che vi aspettate. Forza, la sfondo o la giro. Oh, I never even saw that. Sto aspettando la sua morte. Non manca molto. Oh, il vero. Grazie. Chiusa. Così sarà ancora più semplice eliminarmi. Si, questa è andata. Il risultato è discreto Ma non abbasserei la guardia se fossi Qui, forza Spero non crediate di essere arrivati fin qui contro il mio volere Ok, bisogna farvi soffrire più a lungo Quante volte è bloccato Non mi sento troppo bene Non voglio rifarlo più Adesso mi sento carico Il fettore di cavallo è almeno avvincente a giocare da sconti Ma devo soltanto rallentare Prendete la tessera In fretta Non ci abbiamo ancora molto da fare Non ci abbiamo ancora molto da fare Non si spia la gente Non si spia la gente Credete di aver vinto? Felici di questo piccolo progresso? C'è altro ad attendere. Controllo. Maleduzione, è chiusa. Ci passiamo. Mi servono munizioni! E' ancora l'amirato. Caricatore, guardo! Adiosservarci. Tutto pronto. Il battito si fa accelerato. Il respiro affannato. Il virus è fermato. Non è vivo. Mi hai salvato. Ci è mancato troppo. Avere sottotitoli addosso non mi interviste. Ray, di qua. Muoviamoci. Ci riuscirebbe anche una scimmia a maestro. Il padre è qui, lo troverò. Non avete ancora abbastanza paura? D'accordo. Proseguite verso la prossima area. E vedrò che cosa posso fare. Ok. Chissà cosa verrà fuori. Vai! Deve esserci qualcosa di utile qui. Non sono grechi, ma ci proverò. Non ci siamo affatto. Non ci sono andati. Proffi ragazzi! VATEMI SOTTO! Vieni la chiave! Il navigatore è sotto! Davvero, ti ringrazio! Sento il sapore della disperazione! Deve esserci qualcosa di utile qui! Ci penso io! Andiamo! Muoversi! Qui, adesso! Vi ringrazio! Qui, adesso! Controllo! Grazie! Così non va bene! Ehi, grazie fratello! Andiamo! Muoversi! Se l'avete quasi fatta! Se è qui, lo troverai! Non è vero! Andiamoci dentro! Il vostro fallimento è inevitabile! Si trova proprio sull'urlo del palco! Grazie! E ora, tremate ancora di più! Grazie! E ora, tremate ancora di più! Con l'aiuto di tutti ce l'abbiamo fatta! Con l'aiuto di tutti ce l'abbiamo fatta! Torniamo a casa! Come osate sabotare la ricerca? La ricerca di un futuro Dio!